le dita no che cosa dai che devi fare tu una decorazione sull'alberello che poi dipingono loro e vengono fuori guarda dei lavoretti stupendi allora come si chiama questo bimbo Antonino in modo che nel caso è andata a fare il viaggio grazie della pazienza è un onore per me è bello casinello sta mangiando guarda mangiando siamo qui e abbiamo tutto che meraviglia bravissima cosa ci scriviamo sotto? carrossa adesso ci lavora un po' adesso si asciuga e dopo lo vedremo a prendere perfetto grazie 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 video Posta, chi c'è male? 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 Chi c'è male? Chi c'è male? Chi c'è male?